Si chiama Bellina e Dei di Cianciana e a questa asinella che è stato affidato il compito di trasportare sabato pomeriggio il pane del Santo Nero preparato al giardino della Colimbetra fino al santuario di San Calogero, ma anche di mostrare il segno del passato non solo quello dell'antica Acregas testimoniata dalla maestosità della nostra Valle dei Templi, ma quella delle tradizioni contadine. Ci è sembrato giustamente farlo arrivare questo pane al Santo, perché qui abbiamo raccolto il frumento, abbiamo impastato la farina, abbiamo infornato il pane, l'abbiamo sfornato, l'abbiamo benedetto anche, beh ma rimaneva qui insomma. E' giusto, ma non solo perché è un dovere, è un rispetto nei confronti di San Calogero, ma anche perché abbiamo voluto rievocare il cammino che il pane un tempo faceva alle nostre campagne al santuario. Su Bellina il pane appena sfornato è stato caricato su tradizionali ceste per poi iniziare il suo percorso dal giardino della Colimbetra lungo il cuore del sito archeologico percorrendo la Valle dei Templi, per poi giungere fino al santuario dove si stava celebrando la Santa Messa delle 18. Il pane votivo è stato portato fino all'altare consegnato nelle mani di Don Angelo Chillura. Un appuntamento carico di tanta devozione da parte di chi quel pane lo ha preparato e non solo, ma anche di tanta vocazione turistica, a partire dall'offerta del pane ai turisti presenti nella valle. Turisti, alcuni dei quali hanno trascorso l'intera giornata di sabato proprio al giardino della Colimbetra, partecipando ai diversi momenti della pisata e della preparazione. Altri che hanno rinviato la partenza per non mancare all'appuntamento pomeridiano ed altri ancora che su divulgazione del FAI sono giunti ad Agrigento proprio in concomitanza della manifestazione in onore del Santo Nero. Dalla provincia di Como qui ad Agrigento per assistere anche a quello che è insomma la ripresa delle tradizioni contadine agrigentine, quindi insomma una visita che va al di là di quello che è poter conoscere i musei, poter conoscere la Valle dei Templi, che ve ne è sembrata di questa giornata un po' particolare? A me è piaciuto molto perché siamo stati a contatto con la popolazione, con chi ha fatto poi tutte queste cose, con vecchi sistemi anche di coltivazione del terreno che anch'io non ho mai visto perché quando sono nato non si utilizzavano più, quindi è stata un'esperienza davvero molto piacevole, molto interessante e spero poi un giorno di poter riprendere. Signora, lei mi diceva da tempo sostenitrice del FAI insieme a suo marito, quindi grande sensibilità nei confronti dell'ambiente, addirittura questo viaggio appositamente è stato organizzato in concomitanza. È arrivato il volantino che specificava che c'era questa giornata e io avevo chiesto a lui di organizzarci per avere questa giornata, cioè poter rimanere. Difatti avremmo dovuto partire stamattina e in realtà partiamo domani mattina proprio per vedere questo. È uno dei migliori modi di proporre il territorio, cioè quello di offrire non le cose finte, ma le cose vere della nostra terra. Sicuramente la devozione per San Calogero è una delle cose più vere di questa città. Anche come la gente ha vissuto e come prega dunque è un modo per promuovere il territorio.